perfetta la posizione stai sfiorando il bastoncino stai sfiorando piega la gamba sinistra 1 stendi 2 stendi 3 attiva addominali guarda il tuo punto 4 vai 5 guarda il tuo punto 6 risucchia la pancia 7 8 stop le braccia salgono 8 volte 1 e abbasso bene 2 ok 3 abbassiamo le spalle il collo lunghissimo 4 benissimo 5 risucchia risucchia guarda il punto 6 non molare non molare 7 vai 8 stop chiudi gli occhi per quanto tempo ci puoi stare non importa non importa molla molla brava posizione dritta il ginocchio alternando alziamo destra 1 cambia 2 3 4 chiudiamo sempre bene le gambe 5 6 7 8 pieghiamo le braccia sotto lo sterno 1 stendiamo inspirando 2 l'aria fuori stendiamo 3 inspira 4 le spalle bassissime 5 le spalle bassissime 6 bene 7 attenzione rimaniamo stop la schiena è dritta le scapole chiuse vai avanti 90 gradi l'aria fuori 90 gradi l'aria fuori 90 gradi saliamo inspirando bene 2 espira l'aria le gambe stese a linea e la testa con il coccige bene meglio via 3 l'aria fuori torna inspirando vai 4 l'aria fuori torna inspirando 5 aumenta torna inspirando 6 l'aria fuori torna inspirando 7 l'aria fuori torna crescendo ultima l'aria fuori torna crescendo sto leva la testa guarda il bastoncino manda il bastoncino dietro insieme con le braccia dietro vai vai avanti più lontana possibile chiuditi giù la testa ok piega le braccia al bastoncino dietro il collo alza la testa sali con la schiena con la schiena dritta completamente stendi le gambe insieme apri il petto solleva le braccia otto volte fuori l'aria torna inspira vai 2 torna inspira 3 inspira 4 inspira 5 abbassiamo le spalle stringiamo i glutei 6 inspira 7 rimane su stop alternando apriamo la gamba prima destra martello poi la sinistra 1 chiudi 2 chiudi 3 ci soffermiamo 4 martello 5 guardiamo avanti 6 controlliamo le braccia che sono pari 7 vai 8 stop pieghiamo le gambe i glutei vanno dietro piega le gambe 1 e sali 2 sali inspirando vai 2 sali inspirando 3 inspira 4 inspira risucchiatissima 5 cresci 6 l'aria fuori cresci 7 cresci 7 cresci 8 sto la schiena bene giriamo 1 vai 2 vai 3 4 risucchiamo la pancia 5 stringiamo i glutei 6 vai 7 vai 8 vai il braccio avanti apro sollevo scendi giù tocca la terra piega le gambe tutte e due sali e apri stop via avanti apri solleva piega subito due gambe vai giù apri il braccio tocca la terra e sali vai l'altra mano dritta vai di nuovo chiudi 1 apri solleva e scendi piega le gambe apri il braccio apri il braccio giù giù tocca la terra apri il braccio torna di nuovo vai 1 2 solleva piega stendiamo di avere due gambe stese ok pieghiamo la gamba contro l'albero 1 stendiamo vai 2 stendiamo 3 l'aria fuori stendiamo 4 stendiamo 4 benissimo 5 vai 6 vai 7 vai 8 stop piega quella giù 1 stendi brava 2 l'aria fuori stendi 3 benissimo 4 la respirazione 5 vai stendila 6 vai 7 ultima 8 attenzione stacca la gamba contro l'albero stesa 1 e appoggia bravissima 2 brava 3 benissimo 4 brava 5 bene 6 7 8 stop chiudi due gambe insieme stop rilassati prenditi le caviglie chiuditi butta fuori tutta l'aria tranquilla la colonna vertebrare le gambe aperte come larghezza delle spalle stringi glutei attiva attiva addominali il petto che si avvicina verso l'albero vai fuori l'aria non spostare la testa non spostarla 2 non spostare la testa vai 3 immagina che la fronte deve toccare l'albero 4 meglio brava 5 bene 6 l'aria fuori risucchia stringi 7 vai 8 stop alza di talloni piega le gambe stendi le gambe appoggia i talloni dritta la schiena alza i talloni piega le gambe il bacino avanti ecco stendi le gambe appoggia i talloni vai 1 2 3 continua 1 2 3 ancora 1 2 3 ultima volta 1 2 3 stop apri il braccio destro girati dietro 1 1 1 torna vai non abbassarlo dall'altra parte 2 brava torna vai 3 benissimo gira 4 torna perfetta 5 inspira brava 6 inspira 7 ultima volta 8 stop respira 8 7 6 5 4 3 2 1 solleva 8 volte le braccia verso l'albero 1 1 1 e abbassa giù 1 e abbassa giù 2 benissimo abbassa 3 l'aria fuori le braccia aperte come larghezza delle spalle 4 inspira 5 bravissima inspira 6 benissimo vai 7 brava ultima 8 8 stop solleva la testa bene stacca leggermente le braccia ok le braccia vanno dietro noi non andiamo dietro via l'aria fuori 1 tieni il bastoncino fermo vai 2 inspira 3 inspira 4 le braccia stesissime come le spade 5 inspira 5 inspira 6 bene 7 vai 8 stop stendi le gambe verso il cielo stop martello prendi l'aria ballerina butti fuori martello l'aria ballerina fuori martello l'aria ballerina fuori martello l'aria ballerina fuori le mani dietro la testa sale 8 volte la parte superiore via 1 non usare il collo 2 3 le gambe a 90 gradi 4 5 6 molto difficile con bastoncino 7 8 stop diamo la colonna vertebrale brava abbassiamo le spalle spingiamo il bastoncino dietro 8 7 non muoviamo la testa 6 5 4 3 2 stop pieghiamo la gamba destra e tocchiamo l'albero con bastoncino l'aria fuori 1 torniamo dritte vai 2 torniamo dritte 3 l'aria fuori torniamo piega la gamba 4 tienila sempre piegata ok 5 la variante più facile vai 6 bene 7 vai dritta 8 stop girati verso di me 8 volte 1 torna 2 benissimo torna 3 l'aria fuori crescendo 4 crescendo 5 benissimo 6 altre due 7 proviamo crescere più dritte 8 stop solleviamo le ginocchia verso il petto stop pieda ballerina le gambe vanno a destra l'aria fuori con il bastoncino vanno a sinistra e spira l'aria abbassiamo le spalle torniamo stop sistemiamo il bastoncino perché lo dobbiamo tenere dobbiamo percepirlo bravissima vai di nuovo a destra tienilo vai a sinistra fuori bene vai a destra fuori l'aria a sinistra e spira a destra e spira a sinistra e spira vai ancora a destra 1 e a a sinistra 2 stop sfiori la terra con aluce appoggia 1 torna inspirando vai 2 torna inspirando 3 inspira 4 bene 5 vai 6 vai 7 ultima volta 8 stop bene le gambe chiuse insieme pieda ballerina via solleviamo il bastoncino la testa chiudi la testa vai avanti piede a martello agganciati solleva le braccia sali con la schiena dritta stop vai dietro con la schiena dritta e ora curvala scendi e allunga piedi a ballerina apriamo la gamba sinistra allineata correttamente con l'altro ginocchio la schiena è dritta le braccia stese chiudi le scapole allunga il collo risucchia la pancia attiva addominali alza la gamba via fuori l'aria inspira 2 3 4 5 6 7 8 piede a martello bene il tuo braccio destro guarda su torna e gira sotto sotto cambia 2 sotto cambia 3 gira cambia 4 gira torna quadrupedia chiudi le gambe prepara il bastoncino ferma la parte superiore ok prepara la gamba sinistra stesa giù solleva la via 1 inspira 2 3 non muoviamo la colonna vertebrale 4 5 6 7 stop alziamo il braccio destro 1 2 3 4 5 6 7 8 chiudi la gamba sto piedi a martello alza alternando la gamba destra via stesa 1 abbassa inspira 2 inspira 3 inspira 4 vai 5 vai 6 inspira 7 inspira 8 attenzione piedi a ballerina due gambe salgono insieme 1 ferma alza il bastoncino alza la testa abbassa le gambe guarda i piedi giù le braccia ok scivola dietro alza il bastoncino mandalo dietro solleva solleva le gambe stese 2 alza il bastoncino la testa vai su abbassa le gambe abbassa il bastoncino bene giù la testa e le braccia ultimo viaggio via solleva le gambe vai con il bastoncino la testa sale vai abbassa le gambe risucchia la pancia risucchia 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 solleva giù la testa poi le braccia ultime e ultima la quarta solleva le gambe vai con il bastoncino la testa abbassa le gambe giù le braccia svuota la pancia svuota svuota abbassa la testa il bastoncino dietro aspira l'aria stendiamo bene la colonna vertebrale ok stacchiamo due gambe via aria fuori 1 tocchiamo inspirando 2 inspira 3 inspira 4 controlliamo la lunghezza 5 bene 6 ok 7 vai 8 stop allarga le gambe piegale appoggia i piedi per terra se fattibile o più giù che puoi bene stendi le gambe aprile fuori di nuovo ballerina chiudile e tocca all'albero vai stacca apri piega stendi allargando prima chiudi e poi appoggia aspetta prima stacchi stop allarga piega ovunque puoi bene allarga chiudi e appoggia ultima stacca apri piega appoggia allarga molto chiudi e appoggia stop la colonna vertebrale piede a martello controlla la lunghezza vai dietro vai l'aria fuori 1 torna curvando e tocchi vai fuori curvando l'aria 2 taloni si toccano scivola dietro curvando le gambe stese 3 le gambe stese l'aria fuori torna e appoggia vai 4 l'aria fuori torna stop apri le gambe come larghezza delle spalle e larghezza delle spalle piedi a ballerina vai dietro 1 questa variante torna ogni anello vai due l'aria fuori torna ogni anello altri due fuori l'aria e torna benissimo ultima l'aria espira svuota la pancia risucchia scivola 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 le gambe aperte come larghezza delle spalle piedi a ballerina le braccia sono piegate bene saliamo un passo dopo l'altro vai sali una mano dopo l'altra vai più su che puoi scendi prima la pancia lo stomaco il petto e poi la fronte via vai su usa le braccia vai su 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 abbassa le spalle le spalle dovrebbero essere molto basse abbassa la pancia lo stomaco il petto e la fronte tocca vai di nuovo cammina cammina vai su 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 abbassa le spalle scendi piano piano giù piano piano ok e sali di nuovo dolcemente rimani su abbassa le spalle piega le gambe l'aria fuori 1 stendi inspira l'aria fuori 2 inspira 3 inspira 4 vai 5 inspira 6 benissimo 7 inspira 8 stop alzati di più scendi la pancia lo stomaco il petto abbassa giù e spira gambe stese su abbiamo il bastoncino piede a martello i gomiti sono chiusi le spalle basse saliamo tre volte via 1 2 3 scivoliamo abbassiamo le gambe qualche centimetro torniamo di nuovo via 1 2 3 appoggiamo e abbassiamo le gambe dove ci permette il bastoncino torniamo via 1 2 3 abbassa e il bastoncino giù vai e ultima 1 2 3 abbassa e il bastoncino giù e torna stop